Si è concluso nella serata di giovedì il torneo di beach volley e pallavolo a Grottorilla giunto alla tredicesima edizione. Manifestazione dedicata al ricordo e alla memoria di Giovanni Di Lauro, giovane sportivo sottratto alla vita esattamente un anno fa. Il torneo, organizzato dai giovani del forum, ha visto la partecipazione di ben 15 squadre ed ha registrato la presenza di un numero di pubblico elevata. Il torneo ha visto il patrocinio morale dell'amministrazione comunale di Grottorilla. È stata una bellissima manifestazione, ho visto dei buoni spunti tecnici e non posso non essere d'accordo con la prevenzione della migliore giocatrice. È una ragazza che si è stata in campo, che copre bene tutte le zone, che fa pochi sforzi, però ho visto qualche maschietto sia all'esterno come beach volley che all'interno del palazzetto nelle settimane scorse. Spero che queste attività continuino e che ogni estate ci possiamo rivedere. Il forum ha voluto fortemente dedicare questo torneo all'amico Giovanni Qualedegno, figlio della comunità. Il torneo ha costituito un momento per stare insieme e per ritrovarsi intorno ai valori dello sport che Di Lauro ha sempre incarnato. Lo sport è un importante fattore sociale, è uno strumento di aggregazione che, per fortuna, sta aiutando la comunità crescendo sul piano sociale ed educativo.